Salusso Seramenti in via Giustetto 7m4 ad Abbadia, marchi rigorosamente italiani, seramenti, porte interne, blindati, telai, sezionali, avvolgibili, inferriate, zanzariere, tende da sole e scale. Salusso Seramenti di Salusso Mauro in via Giustetto 7m4 ad Abbadia Pinerolo. Visita la nostra pagina www.facebook.com slash salussoseramenti o il nostro sito web www.salussoseramenti.it o chiamaci al 392 604 4947. Salusso Seramenti è una porta sicura sul mondo.